quindi ragazzi torno a rifarvi i complimenti voi siete nel 35 per cento di persone illuminate ok dall'altro lato c'è tutta una massa di persone che diciamo affronta la vita in maniera piuttosto inconsapevole che ora io non voglio non voglio diciamo prima di fare questa diretta mi sentivo più aggressivo ma non voglio essere né offensivo e né aggressivo e quindi dirò delle cose che sono piuttosto crude ok ma sono esattamente la verità e la verità di quel che c'è diciamo il riscontro di quello che dico è facilmente constatabile tutti i giorni ok tutti i giorni quindi ragazzi voi siccome poi insomma tanti tanti che vengono in consulenza e in consulenza ragazzi io non vi spiego solo il marketing cioè andiamo anche a lavorare sulla vostra mentalità sulla vostra psicologia e quindi mi accorgo che tanti di voi pur essendo avanti pur essendo diciamo più brillanti rispetto ad altri non hanno non hanno abbastanza fiducia in se stessi che in o che siete cioè così è detto un po sbagliato cioè non avete diciamo non capite ecco non non siete coscienti di quanto valete di più degli altri ok perché oltre a essere la crema ok generi genericamente ok è un discorso difficile ora devo organizzare le idee allora se voi siete la crema in generale siete diciamo il 35 per cento che in un voi siete la crema nel giardinaggio e siete sempre il 35 per cento non è che valete di più come negli altri settori ma valete molto di più perché la vostra concorrenza è veramente allo stato brado ok ma nemmeno questa vuole essere un'offesa che allo stato brado cioè vuol dire lo stato selvatico allo stato rozzo ok e io veramente ad oggi trovo assolutamente incomprensibile incomprensibile sì non conoscono le proprie potenzialità quindi cari giardinieri c'è da domani mattina voi vi dovete alzare ok e dovete sentirvi superiori a nove giardinieri su dieci che incontrate sulla vostra strada perché questa è la realtà ok se anche in questo momento c'è quello che vi sta superando ed è molto meno competente di voi e il gioco la palla in mano a voi c'è questa cosa può cambiare solamente se voi lo volete lo potreste fare relativamente facilmente perché voi avete un qualcosa in più ok stavo dicendo che se il 35 per cento generico in tutti i settori a è superiore mentalmente ok a livello di conoscenze ma anche a livello di approccio della vita rispetto al 95 per cento nel vostro settore data la concorrenza che veramente a livello bassissimo che c'è non c'è io credo che un settore peggiore riguardo al rispetto al giardinaggio a livello di incompetenza e ripeto non voglio offendere nessuno ma è proprio il dato di fatto qualsiasi meccanico che apre la vostra auto e sa riconoscere i pezzi che ci sono dentro ok ma mediamente il giardiniere classico italiano non va in un giardino e si trova in difficoltà otto volte su dieci nel riconoscere le piante non le sa riconoscere non le sa riconoscere e come far a gestire delle piante di cui non conosce nemmeno il nome e se non conosce il nome figuriamoci se ne conosce la fisiologia o magari il periodo di fioritura cioè la cosa agghiacciante la cosa più rilevante cioè voi vedete che vengono gli arbusti no possono essere di due tipi ok affioritura precoce ok o affioritura tardiva quelle affioritura precoce non li potete potare a febbraio ok non li potete potare a febbraio perché sennò non fioriscono quelle fioritura precoce si potano prima dell'inverno in modo che quando ripartono poi portano le fanno le gemme a fiore e fioriscono ma se tu non sai che arbusto è figuriamoci se sai se fiorisce prima o se fiorisce dopo alla vostra evoluzione